C'è Fiori, Boldini, Zago da seconda linea, out, allora si chiude qui, 15-10, una grande partita, regala due punti al Vole Soverato e uno alla Pinerolo in questa quarta giornata del girone A. Coach Bruno Napolitano, commentiamo questo 3-2 avvincente qui al termine di un bellissimo spettacolo, il pubblico si è sicuramente divertito, due punti importanti per il Vole Soverato, una gara che si annunciava difficile e lo è stata. I due punti sono importantissimi perché farli in queste condizioni dopo l'infortunio della Quarchioni mercoledì, considerando che abbiamo adesso giovedì Cutrofiano e poi Club Italia hanno un peso doppio, secondo me. Di fronte a un avversario forte, fortissimo, che ci ha messo in difficoltà in alcuni frangenti ma nel quale abbiamo giocato mediamente una discreta partita, una buona partita. Abbiamo fatto delle cose molto bene, a differenza l'ha fatto il muro difesa, su questo non c'è un dubbio, abbiamo preparato bene la partita, le ragazze sono state bravissime. Devo spendere una parola a favore delle ragazze perché non è stata una settimana facile, hanno interpretato la partita benissimo, devo dire mentalmente proprio bene. Mi piacerebbe vedere il pubblico sostenerci sempre, questo mi dispiace dirlo ma è una squadra che va sostenuta soprattutto perché comunque ha vissuto delle difficoltà e giocare una partita di questo livello merita comunque un plauso, anche quando ci sono dei momenti di appannamento, anche quando si tira una palla fuori. Abbiamo fatto una partita molto buona ma soprattutto una grande interpretazione, non abbiamo mollato mai, per cui un brave a queste ragazze che hanno fatto una gran partita e un complimento a Pinerolo che devo dire ha giocato una gran partita. Irene Botarelli, una delle principali protagonisti di questa vittoria sofferta al tiebreak con Pinerolo, dicevamo con coach napolitano, si annunciava una partita difficile, lo è stata, un soverato che ha dato anche una grossa prova di carattere oltre che la prestazione sul campo. No, è stata una partita veramente difficile, già lo sapevamo, eravamo pronte a una battaglia perché comunque Pinerolo è una squadra di altissimo livello e che sapevamo ci avrebbe messo difficoltà e soprattutto sapevamo che ha veramente pochi punti deboli e quindi siamo contentissime perché abbiamo lavorato bene il muro difesa e ci siamo divertite anche se abbiamo avuto dei momenti di blackout ma la cosa veramente bella è che ne siamo uscite fuori da squadra. In mezzo alle due ex di turno, Serena Bertone e Jennifer Boldini, partiamo da Jennifer, un punto conquistato a Soverato che tu sai benissimo è sempre un campo difficile al termine comunque di un'ottima prestazione della vostra squadra. Sì, ottima prestazione a fasi alterne, non siamo state per niente costanti durante la partita e questo è un campo difficile, si sa, con un pubblico così caloroso si sa che è difficile, ne siamo uscite comunque da squadra ma c'è tanto da migliorare. Serena Bertone, un commento anche sulla partita da parte tua, non solo della tua prestazione personale ma anche della partita della squadra, probabilmente dopo quel quarto set vinto il tiebreaker non avete iniziato bene e poi è stato difficile recuperare. Sì, è stata una partita lunga e difficile perché il campo è molto molto difficile e abbiamo iniziato un po' tese, molto tese, siamo nervosite un po' troppo per degli errori gravissimi arbitrali però comunque è sempre colpa nostra se perdiamo. Sensazioni, Jennifer la prima da ex contro il Soverato dopo la bellissima stagione dello scorso anno che sicuramente resterà, rimarrà perché è stato un grande momento di crescita tuo personale oltre che della squadra del Soverato. Sì, io il Soverato la porterò sempre nel cuore, l'anno scorso è stato un grande anno e il mio primo in A2 quindi per me resterà sempre un pezzo di cuore qua. Infine anche un commento a Serena, secondo anno da ex dopo quattro anni a Soverato però diciamo che questa volta, vedendo anche i tabellini, la tua prestazione, l'emozione non ha giocato brutti scherzi, magari l'anno scorso è stato il primo anno da ex, quest'anno già era diverso. Sì, l'anno scorso ero molto molto più tesa, quest'anno ero leggermente più sciolta però volevo vincere a tutti i costi, purtroppo dobbiamo lavorare su tante cose che non sono andate bene però il campionato è lungo quindi si vedrà a fine campionato.